Altro blitz contro la mafia dei Pascoli, dei Nebrodi, in Sicilia. 23 persone che sono state arrestate, accusate di estorsioni e truffa per percepire fondi europei per l'agricoltura. Sentiamo per Damiani Dagata. Un copione che si ripete a distanza di poco tempo, malgrado i 600 anni di carcere già combinati ad esponenti della mafia dei Nebrodi. 37 misure cautelari, di cui 23 arresti e tutti nel clan di Tortorici, paese arroccato nelle montagne ilmestinese. Componenti della famiglia Bontempo Scavo e Batanesi, che da tempo hanno messo le mani sul meccanismo dei finanziamenti europei all'agricoltura. I PAC, assegnati a terreni adibiti a Pascolo, concessi durante le aste pubbliche dei comuni montani e regolarmente rastrellati dagli emissari di Cosa Nostra. Continuano a cercare di fare affari su una fonte di sostentamento milionare a rischio zero. I titoli venivano passati di società in società, un sistema di scatole cinesi già visti in Abruzzo, che rende più difficili il lavoro degli inquirenti. Oggi si fa anche un passo avanti nelle attività di indagine, perché si arriva anche al sequestro dei titoli a GEA, che sono poi quelli che consentono l'erogazione di quei fondi. Grazie al protocollo Antoci, divenuto legge nel 2017, la Procura ha sequestrato 349 titoli erogati negli anni passati. Un duro colpo per gli affari dei Tortoriciani, l'ospietato gruppo di fuoco della mafia catanese, che da anni strozza l'economia delle montagne, con estorsione e frodi comunitarie, togliendo ossigeno ai tanti agricoltori onesti.